Ola a tutte ragazze, allora quest'oggi un video tag come avete potuto ben leggere dal titolo del video questo è il tag delle sorelle, infatti siamo io e mia sorella ovviamente voi l'avete già vista, lei si chiama Vera lei si chiama Vera, ok e quindi quest'oggi, no lei non si chiama, a lei la chiamano e quest'oggi facciamo il video tag delle sorelle che abbiamo visto un pochettino su internet allora iniziamo subito quindi partiamo con la prima domanda quanti anni avete? io ho 17 scrivi l'altra con una parola ok, io ce l'ho dilla aggressiva aggressive aggressiva, molto aggressiva rompi palle non è vero ma assolutamente la gente vi scambia mai? si dice anche troppo spesso e dicono che? che ci assomigliamo un sacco ci assomigliamo ma voi la vedete la differenza? oddio che smontano cioè voi la vedete la differenza? io si e come se si vede? cioè non ci assomigliamo manco dalla parte dei piedi purtroppo però la maggior parte delle persone ci dice che ci assomigliamo no, ci scambiano no, oddio no ci scambiano ci sarebbero degli orbi ciecati se ci scambiassero qualcosa che ti dà fastidio dell'altra Nelly stavolta parlo tu che non mi fa senso qualcosa che mi dà fastidio una paga però mi dà fastidio che lascia sempre le ciabatte piedi piedi le mie e poi tra l'altro ci abbatte non le sue perché le sue non le utilizza a lei piace utilizzare le mie cose che ormai se ci abbatte diventate le mie dato che mi ha meglio a comprare però voglio dire anche quando erano le mie le utilizzavo come utilizzare la mia borsa quella che lei mi ha regalato per il mio diciottesimo ma se non la usa mai almeno c'è qualcuno allora io la utilizzerei ma quando? se l'avessi appunto perché non ce l'ho quindi come potete utilizzare qualcosa che non possiedo comunque qualcosa è un'altra che urla sempre non falto di urlare c'è una parola senza urlare nooo come essere sorelle di una persona che fa video? ma normale la vita procede litigate mai? quella volta che sono a casa si però vabbè alla fine no vabbè ma non è che sono litigate tipo io ti ho ammasso no assolutamente no no comunque si quella è la cosa migliore dell'altra allora e qua c'è uno le cicale mi è andata a dire qualcosa aspetta anche quando non voglio truccarmi che mi secco è sempre la disponibile ti trucco il pennello e io ma ti trucco io e io che sono volente cosa e io ma bene truccami tu comunque la cosa di mia sorella è che si fa truccare non te lo immagini no assolutamente perché le si secca è però è sportiva è una ragazza in gamba lo scherzo preferito tra di voi? una faccia che non facciamo evitiamo e andiamo avanti e andiamo avanti faccio finta che questo lo so non abbiamo fatto vai non è domani il ricordo preferito insieme ricordo no che bello le giornate passate a mare a me piaceva un sacco poi quando l'era piccola lei aveva oddio aveva paura del mare proprio paura indovina il cantante è l'attore preferito allora inizio io cantante preferito madonna è Lady Gaga è preferito fermi tutti ci piangono quello che ha con me sfondo telefono non è vero comunque ma che dici? no comunque attore preferito Christian Bale è preferito di mia sorella è Larry Duff è l'attore preferito di mia sorella ah è Babaman già l'avete capito in mia sorella è l'attore preferito la capra non è nata di capra vero? me l'ho dimenticata chi impiega di più a prepararsi? lei ovvio perché io mi sto un po' di più a truccarmi l'animale preferito noi non abbiamo animali dove stici in casa però ci piacciono ci piacciono entrambi il cane molto molto bello commedia horror o film romantico viva i film fantasy a me piacciono i film romanti Blackbird iPhone Nata D2 Android iPhone di ultima generazione no vabbè il mio Huawei è stato un Galaxy comunque molti dettagli film e canzone preferita cioè in realtà non ne ho una me ne piacciono tante che io ascolto sempre comunque il film preferito è The Elp e tu non lo sei mai visto The Elp è molto molto bello comunque il suo film preferito è Batman ovviamente come potrebbe essere un altro film canzone preferita penso qualcuna di Madonna tacchi o scarpe basse? lei tacchi trampolazzi tipo Lady Gaga ma lei comunque se le mette le scarpe alte bandoloni o vestiti? vestitini tutta la vita per lei a me piacciono anche i vestitini però comunque utilizzi molto più i bandoloni si però anche a me piacciono i vestiti qualcosa di strano le mangiate le pelle cotte le pelle cotte qualcosa di strano che mangiate no ho già fatto avete qualche interesse in comune? che vogliamo andare a mangiare sushi? perchè io non l'ho mai assaggiato il tuo programma preferito? il tuo? aspetta me lo faccio dire è il tuo programma preferito? tu hai programmi preferiti? devono parlare ecco devono parlare Stefan, Demon Demon più che altro e Stefan un po' di meno il suo ma che so le si guarda più che altro non è un programma le partite di pallavolo una volta quando c'erano le sport qual è l'aria preferita? indaco il suo malata l'indaco il tuo il tuo è fuxiano? non è fuxiano aspetta rosso? relativo vero come è quello? io vorrei lilla siamo munita lilla lilla cibo preferito? nuggets pericotte non è vero 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 insalata di pomodoro wow comunque la pizza la pizza è fantastica la pizza buonissima vabbè la pizza e il panino del camion nulla ragazzi queste qua sono tutte le domande ah c'è quello già finito? ma mi stavo divertendo figlia gioia nulla ragazzi questo è tutto queste sono tutte le domande scritte alcune anche aggiunte da noi spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile io devo andare a studiare forse se non ha voglia vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao